Ciao bambini, sono io la vostra Teddy Pera, come state? How are you? Oggi facciamo lo spallitest del mio amico quaderno nasone, Rosebok. Lo conoscete bene, vero? Bisogna stare attenti quando ti stardutisce vicino perché ti fa volare. So, are you ready for your Teddy spelling? La prima parola è, scrivete, occhi, eyes, eyes. Sono quattro lettere e due sono uguali, eyes. State scrivendo? Bravissimi. Fantastico. La prossima parola è Mouse, la bocca. Mouse. Sono cinque lettere tutte diverse. Mouse. State scrivendo? Bravissimi. E adesso un'altra parolina. Orecchio. Ear. Ear. Avete capito cosa ho detto? Ear. L'orecchio. Sono solo tre letterine, facile. State scrivendo? Orecchio. Ear. Fantastico. E adesso l'ultima parola è il verbo. Che cos'è che fa il quaderno nasone? Lui stardutisce? E allora scrivete sneeze. È un po' difficilina. Stardutire? Sneeze. Sono sei lettere e ce ne sono tre uguali. sneeze. Coraggio. 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 Scrivete. Sneeze. Attenzione perché non sono tutte insieme le tre lettere uguali. Fantastico. Avete finito. Bravissimi. See you soon, kids. Bye.